Monteverdi è uno dei presupposti, poi l'inaugurazione dell'Expo, l'Expo per Lombardia e per Veneto significano una grande opportunità non solo economica ma anche di relazioni e di poter tessere ancora relazioni più profonde tra le due comunità. Diciamo che si va a costituire il Lombardo-Veneto come noi diciamo sempre, quel Lombardo-Veneto che ci permette di essere ancora più forti nei confronti di Roma e più vincenti nei confronti d'Europa. Roberto Maroni è un amico, nel senso che è un amico, è un collega governatore con il quale collaboriamo quotidianamente per cui per me è la quasi quotidianità, il fatto che sia qui ci fa assolutamente onore anche perché presentiamo un'iniziativa per l'altro particolarissima, queste onde sussurranti, questa crociera sul Po che coinvolge Mantua, Cremona e Venezia che sono le tre città di Monteverdi. Dico pancia a terra e lavorare, non guardiamo i sondaggi che sono buoni, non guardiamo nulla, dobbiamo andare dritti all'obiettivo, quindi a tutti i miei sostenitori, i militanti, a tutti quelli che ci sostengono, lavorare come fossimo sempre sotto di un voto, in maniera terra che dobbiamo guadagnare quel voto fino in fondo, penso che sia sale della campagna questo, non dar nulla per scontato, il vero nemico che abbiamo è l'astensionismo, noi perdiamo se i cittadini non vanno a votare, per cui il mio sarà sempre un invito al voto, si vota solo domenica 31 e non esiste il balottaggio. Il coraggio delle nostre idee di difenderle fino in fondo, di aver dimostrato che dove amministriamo noi amministriamo bene, basti pensare alla sanità, alle tante attività che abbiamo fatto, ho gestito un'alluvione in nove mesi, quando da qualche altra parte sono passati ormai un ventennio e sta ancora lì a fare i conti e a mandare avvisi di garanzia, penso che questa sia la dimostrazione. E poi mi lasci dire anche l'onestà, visto considerato che abbiamo conosciuto grosse inchieste, ma noi non siamo mai stati coinvolti. Comunque andiamo avanti, andare avanti significa seguire la legalità, la via della democrazia e cercando di portare avanti un risultato che sia un risultato che è quello che democraticamente in maniera consultiva i cittadini possano esprimersi, nulla di grave, nulla di sovversivo o di rivoluzionario, semplicemente chiedere ai cittadini che opinione hanno su due temi, che sono quelli dell'autonomia e dell'indipendenza. Parlare di Expo, per noi Expo è una grande opportunità, visto che è considerato che ci rivolgiamo a 20 milioni di visitatori e a 250 delegazioni. Per dire che questo Paese è paralizzato su una legge elettorale quando i cittadini pensano a tutt'altro i problemi, che sono quelli più reali, che sono quelli del lavoro, che sono quelli della salute, che sono quelli di uscire da questa crisi, che sono quelli di trovare una casa dell'occupazione giovanile. C'è qualcuno che ha fatto paralizzare il Paese sull'Italicum, già il nome porta male secondo me.